Salve, buongiorno a tutti, sono Giacomo Tallarico, amministratore della team manager SRL e oggi siamo qui a Soveria Mannelli per discutere con l'onorevole Riccardo Tucci, Vincenzo Morelli, il dottore Flavio Tallarico e l'ingegnere Carlo Sacco di queste nuove opportunità sul 110% che si sono presentate. Oggi loro ci faranno un po' di capire come può funzionare, cosa bisogna fare e tutte le opportunità che possono venire su questo nuovo tipo di finanziamento che si presenta per un po' di persone che potranno in parte utilizzarlo e in parte no. Quindi oggi cercheremo di capire chi potrà più o meno soffrire di questa opportunità e quindi trarre dei benefici. Vi ringrazio tutti, buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.